ok allora come ci tengo tanto i miei spettatori tranne che non riesco mai andare da parrucchieri ultimamente sono molto impagnata poi sembra che io sempre ascolto national bound killers che poi potrebbe anche suscitare certe infatti non solo la gente guarda troppo la tv come cd non funziona vecchi che ancora non ho capito come si chiamano io mi ricordo di hc non so perché dice riccardo mio amico m di bo poi decise voi quindi ho trovato una cosa abbastanza tipo heavy metal lasciamo perdere perché non non lo so che cazzo ci farei meglio tra le mie casette ma di sicuro non è mia allora questo è mi pare che no dai un attimo amo ho capito come perché di solito non è così mi scuso per i capelli mi devo ancora sistemare trovo quella giusta vabbè questo è classico però questo è curioso e questo non credo questo si chiama hf 90 siamo ci siamo evoluti ma non so su quale parte questo dice scegliere la parte poi dopo un po' un po' si spegne oh madonna un attimo ma perché non si è cominciò a stare un po' più lungo un po' più lungo cari un po' si spegne un po' di tipo di ho trovato una cosa che ho comprato una volta a viena che non sapevo nemmeno cos'è ma non ce la faccio e quindi quello che cercavo comunque l'ho trovato faccio ultimo ho cercato è check the best group è super Sì, sì. Sì, è volva, ma non ci scocciate l'ora. Qua comincia, però ci sono 20 minuti di fare la stessa mano. E poi comincerò a sparare. Questo. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì.